Scusate, cambia! Guarda l'olio, cazzo! Settore di tornure che non ho portato più a piazza per est, cambia! Grazie, cazzo! Sta portando via fila, sono in bestialismo, abbiamo quasi 6 fili, eh! Adesso ne ho 8, vediamo se finisce! Ciao! 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 Calcolate che sono a 8 fili, eh! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.